Cari amici di Ercole, mi vedete comparire dal fondo di una delle gallerie sotterranee del rifugio antiaereo Vittorio Putti. Siamo all'interno del parco di Villa Revedin, la sede del seminario Arcivescoville sulle prime colline di Bologna. Siamo sopra via di Codivilla, a due chilometri da Piazza Maggiore più o meno. Questo rifugio fu costruito nel 1944 a supporto dell'ospedale militare che era all'interno del seminario. Questo rifugio è l'unico esempio di architettura ospedaliera ortopedica, costruito tardi, verso la fine della guerra, tra il 1944 e il 1945. Qui potevano accedere solamente i grandi invalidi, ovvero i congelati che arrivavano dalle campagne di Grecia e di Albania. Cancrene, amputazioni malfatte, schegge. Qui potevano trovare un più che ottimale recupero sia osseo che dal punto di vista psicologico-fisico. Il direttore era il tenente medico allora Oscar Scaglietti, una delle figure principali dell'ospedale Rizzoli. operò tantissimo in loco. Fu chiamato anche il Michelangelo degli interventi, in quanto lui poteva operare tranquillamente, fare anche un lavoro complesso in 20 minuti, dove altri operatori, dove altri medici ci mettevano due ore e mezzo. La sua grande umanità portò ad avere una cittadella praticamente indipendente, dove potevi accedere solamente se avevi il permesso del cardinale Nasali Rocca ed appunto del tenente medico, quindi Scaglietti. Scaglietti rimase qui fino al 1955, quando tutta la struttura militare ritornò in mano del seminario Cvescovile. Scaglietti stesso prelevò tutto il materiale medico, tutto il materiale da interventi, per andare a fondare Villa Salus, uno dei più importanti casi di cura del bolognese. Quindi questo rifugio, che ha un'estensione di circa 224 metri, compresi tutti gli spazi interni, ovvero la grotta ottocentesca, la cava settecentesca e la sala operatoria di emergenza, compresa l'ex infermeria, comprende questa lunghezza di metratura. È interamente recuperato ed è interamente visitabile. Ci accompagni dentro? Certo, seguitemi. Questa è una delle tante segnalazioni distintive ancora presenti all'interno della galleria che indicano i modi comportamentali di chi si rifugiava qui dentro. Silenzio in cui l'aria è preziosa, ovvero non si fuma, non si parla e si cerca di stare in silenzio il più possibile, perché quando le gallerie erano chiuse dai portoni l'aria era sempre meno. Quindi un rifugio calcolato per circa 600 persone, potete capire quant'aria poteva essere consumata in poco tempo e quindi anche a discapito di chi qui alloggiava, soprattutto i feriti del rifugio. Questa invece è Ariel, la possiamo chiamare così, dalla sirenetta, senza fare pubblicità, ovvero l'ultima sirena antiaerea di Bologna. Datata 1937, è stata recuperata da uno dei tetti dei cappannoni della Staveco, grazie a un accordo con il De Magno e la soprintendenza dei beni culturali. Funziona, è stata restaurata ed emette ancora un suono acuto, tanto che la pressione sonora si attesta a 120 decibel a un metro, il che equivale, come rumore per dare un'idea, a un bimotore a elica in decollo, mentre si attesta a 100 decibel a circa 10 metri di distanza. restaurata la facciamo suonare in occasione degli eventi principali, quindi dei memoriali, quindi il 25 aprile, il 2 giugno e altre festività come il 14 agosto, dove qui nel parco di Villa Revedin si tiene la festa, ormai da più di 50 anni, storica del seminario stesso. Come vedete le gallerie sono larghe circa due metri e mezzo per tre, tre e mezzo di altezza, gli spazi erano assai stretti, anche perché le normative costruttive dell'epoca intimavano di calcolare uno spazio in sotterranea con circa un metro quadro a persona e due metri cubi di aria per poter respirare. Quindi tutti i calcoli che venivano effettuati erano in base appunto alle persone che potevano essere ospitate. Una capacità totale che in genere non veniva mai rispettata, in quanto qui oltre ai degenti dell'ospedale militare arrivavano anche diversi civili che abitavano in zona. Qui entriamo in uno dei due vani principali per curare le persone anche sotto i bombardamenti. Questo era l'ex infermeria. Questa è una piccola raccolta di oggetti che abbiamo trovato durante lo sgombero delle gallerie e sfruttando questa apertura che ci siamo praticamente trovati l'abbiamo utilizzato come piccolo spazio espositivo. Come vedete anche la nostra collina che è fatta prettamente di arenaria, la classica sabbia gialla di Imola in bolognese detta sabbione. Si vedono ancora i segni delle picconate, ma soprattutto vedete che per cercare di far arrivare meno umidità possibile c'è un intercapedine tra il muro e l'arenaria, proprio perché poteva circolare ancora più aria. Queste sono delle lettighe che abbiamo ricostruito a scopo didattico. ovvero tutti i punti in cui i feriti del seminario, da quella parte c'era l'ingresso principale, quella più vicino alla sede arcivescovile, e quindi venivano messi qui a riposare oppure in caso di bombardamenti venivano messi al sicuro. Ricostruzione didattica, quindi non utilizzabile, però rende l'idea di come poteva essere soggiornare all'interno di questi spazi e poi soprattutto il ferito poteva essere sollevato e portato in infermeria oppure nella sala operatoria di emergenza, che è poco più avanti. Sopra di noi, uno dei due camini di aereazione con la funzione di via di fuga verticale, infatti abbiamo anche la segnalazione distintiva muro US uscita di sicurezza, anche questa è ripristinata. La salita veniva tramite una scala metallica a pacchetto, carrellata, si arrivava col carrello e i settori di scale già inseriti, una manovella non faceva altro che sollevare i vari pezzi di scala fino ad arrivare a 15 metri d'altessa. In cima il cunicolo non era solo verticale ma fatto a forma di Z, ovvero un camino antisoffio, due bracci verticali collegati con un orizzontale. Questa forma permetteva sì che se un ordigno fosse esploso in collina, cioè all'aperto, il camino non avesse fatto l'effetto venturi, quindi non poteva il vortice d'aria convogliarsi all'interno e quindi anche danneggiare le persone che qui erano collocate. Questa era la sala operatoria. Rispetto all'infermeria è completamente intonacata e anche questo vano che ci siamo trovati aperti l'abbiamo identificato come piccolo punto espositivo di altri oggetti che abbiamo trovato qua, quindi gavette, latte da olio, strumenti da carro armato e anche delle targhette in legno, soprattutto quella più simpatica è quella dove c'è scritto Razzi. Oggi siamo qui anche perché è presente una delle installazioni di Art City, ovvero questo video modellato da Carola Bonfili in computer grafica 3D che reinterpreta paesaggi e simbologie adentrandosi nei territori della letteratura, in questo caso le metamorfosi di Ovidio. iscriviti al canale iscriviti al canale